Ciao a tutti e ben ritrovati, siamo giunti alla lezione numero 12 e quest'oggi andremo a vedere come si fa a fare un delete all'interno di una tabella dati presente nel nostro database di SQL Server. Cos'è un delete? È praticamente una cancellazione di record all'interno del nostro set di dati. Prima di andare nel management studio vi faccio vedere una pagina, sempre dal link che vi dà la guida del nostro SQL Server, scorrendo tra i vari menu si arriva a questa pagina che in descrizione trovate il link diretto che vi porta a questa pagina. Qui cosa c'è? Se ne avete bisogno potete entrare e vedere un po' più nel dettaglio quello che vi mostro io. Ad esempio se entrate nella select, vedete lui vi spiega che cos'è una select, come funziona, come non funziona, poi scrollando vi fa vedere un po' il group by, il where, vi fa vedere vari esempi anche di query che si possono andare a lanciare. Entra un po' più nel dettaglio, dopo noi ovviamente con il corso andremo abbastanza avanti e approfondiremo molto di più come si fanno a fare le query. Però adesso siamo ancora all'inizio, questo è giusto per darvi un sito di riferimento, un link dove potete fare anche degli approfondimenti in autonomia se ne avete l'esigenza. Quindi in descrizione questo link. Perfetto, adesso andiamo nel nostro management studio, ci colleghiamo e apriamo il nostro database. database, andiamo in tabelle, vi ricordo che se non avete questo database perché state vedendo questo video per la prima volta, compare il link in sovraimpressione che vi porta alla lezione che vi spiega come caricare il backup di questo database all'interno del vostro SQL Server, così che possiate avere le mie stesse tabelle e poter fare le stesse operazioni. Allora, prendiamo ad esempio la customer, una tabella a caso e noi vogliamo fare un delete, vedete se facciamo clic sul più e su clone noi abbiamo queste colonne qua dentro la tabella. Però noi vogliamo eliminare praticamente il contenuto di questa tabella parzialmente, allora facciamo un select, facciamo un selezione alle prime mille righe. Allora, se facciamo le prime mille righe, ok, lui mi scrive la query come vedevamo, mi tira fuori le prime mille righe di questi campi qua, che vi ricordo si può sempre fare select top 1000 e asterisco, ok, se io eseguo, ok, eseguo sempre la stessa query. Perfetto, questa ci serve di riferimento per capire un po' i filtri che possiamo andare a fare, ad esempio dopo andremo a cancellare Cristina ad esempio. Per fare la delete come si fa? Allora, il select è select campi from tabella, molto sinteticamente, ok? Il delete è delete from tabella, ok? Quindi nel select devo sempre definire anche i campi che vado ad estrarre. Nel delete io so che vado a eliminare tutti i record di tutte le colonne, quindi non serve definire i campi che devo andare ad analizzare, perché io sbraserò completamente la riga. Se io faccio un delete from tabella, lui cancellerà tutti i record che sono all'interno di una tabella, uno a uno andrà a cancellarli. Se io invece ci aggiungo una condizione di where, ok, e metto il nome del campo, ad esempio metto first underscore name, ok? Ricordatevi che se ci sono spazi vanno sempre usate le quadre, è sempre buon uso mettere le quadre, quindi quadra e quadra. Uguale ad esempio si può mettere Cristina, qui si mette se usano sempre gli apici per mettere il testo, quindi l'apice che sta sotto il punto interrogativo della vostra tastiera, ok? Qui manca il nome della tabella, ovviamente abbiamo detto che usiamo questa tabella qua, ok? Perfetto, ho fatto la query, vedete? Se io faccio la select, quindi se io seleziono questo codice, si eseguirà solo questo codice, esegui, esegui questo codice. Se seleziono solo questo codice, si eseguirà solo questo codice, se non li seleziono entrambi, li esegui tutti e due, ok? Quindi adesso noi andiamo ad eliminare Cristina, vedete qua c'è Cristina con ID 4. Adesso noi lo eliminiamo, ok? Mi dice che ne ha trovato uno, ha eliminato un record. Se noi adesso selezioniamo ancora la nostra tabella, vediamo che effettivamente abbiamo l'ID 3 e poi passa al 5, perché appunto Cristina è stato cancellato. Perfetto, noi abbiamo fatto un delete molto semplice con un where. Vogliamo mettere una doppia condizione? Perfetto. Dopo il where facciamo end, ok? E facciamo Cristina, ok? Uguale a Antonio, ok? Perfetto, così io andrò a cancellare sia il record con Cristina, sia il record con Antonio. Piuttosto che uso last name, perché cambio campo, last name, e dico che voglio cancellare sia i nomi che hanno Cristina, piuttosto prendiamo tipo Thomas adesso, e prendiamo BadEx. Ok. Quando io eseguirò questa cosa qua ovviamente eliminerò due record. Scusate, qui gli ho detto end, quindi deve essere uguale a questo e anche uguale a questo. Se io voglio eliminare entrambi i record, che siano questi o questi, ovviamente qui ci va messa la condizione di OR. Scusate, stavo facendo un errore banale. Seleziono il codice, vedete, e ho cancellato due righe. Se io adesso riprocesso la query, avrò due buchi. Difatti non trovo più il record 1, non trovo più il record 3, non trovo più il record 4. Io posso fare anche un'eliminazione multiple, ad esempio posso utilizzare IN, ok? Se uso IN, sullo stesso campo posso definire più nomi. Si fa IN, sempre attraverso gli apici, si mette il testo, poi si fa virgola, apice, si mette l'altro testo, si mette Martin, e si chiude la tonda. Perfetto. Io così cancellerò tutti i record dove all'interno di questo campo avrò IN, ok? Questo nome, oppure questo nome. È come se avessi fatto FirstName uguale a Thomas, or FirstName uguale a Martin, ok? E così è la condizione di delete. Un'altra cosa interessante che vi faccio vedere è che se fate clic destro sulla tabella, Crea Script Tabella, ok? Crea Script Tabella, qui vi dà degli script rapidi, quindi potenzialmente potete premere su Genera Codice per istruzione Delete In. Cliccando qua e facendo Nuova Finestra Editor, lui parte da questa query qua e vi scrive direttamente il codice in automatico, così voi dovete andare semplicemente a compilare l'istruzione di WHERE. Io di solito uso subito gli script rapidi perché faccio prima. Bene, con questa lezione è tutto, ci vediamo alla prossima. Ricordatevi di lasciare un bel like e di iscrivervi se non siete iscritti. Ciao!